Ora vi raccontiamo alcuni leader internazionali con i giornalisti del Foglio, Giulio Meotti, Giulia Pompili, Cecilia Sala, Marco Bardazzi. A seguire le interviste ad Andrea Bocelli, a Matteo Renzi e poi un piccolo break. Buongiorno, salve. Allora, ho l'ingrato compito di parlare di Netanyahu, che sembra un personaggio di Cattivissimo Me, che gode di stampa peggiore che la Yatollah Kamenei in Occidente. Proverò con quattro parole chiave. La prima non è un aggettivo ma è un acronimo, Ezzahal, che significa Forze di Difesa Israeliane, perché la storia di Netanyahu è una storia che affonda nel sacrificio del fratello Ioni, che è morto nel famoso raid di Entebbe. Netanyahu è anche un politico, il più longevo primo ministro della storia israeliana, che ha militato in una formazione d'elite dell'esercito, che è la Sayeret Matkal. Tutti i primi ministri israeliani hanno fatto parte dell'esercito, tranne Shimon Peres, che era la famosa colomba, che però era una colomba che ha dato a Israele la bomba atomica, che è un segreto di Pulcinella, ma è l'uomo che ha lavorato a quel programma. La seconda parola che mi viene in mente è America, perché Netanyahu, per volontà del padre, è cresciuto negli Stati Uniti, dove è stato ambasciatore all'ONU, dove ha imparato i segreti machiavellici della diplomazia internazionale, e soprattutto è stato il volto della CNN al tempo della prima guerra del Golfo, quando si metteva la famosa maschera antigas al tempo del lancio dei missili Scud di Saddam Hussein su Tel Aviv, il 91. È un personaggio che lì ha maturato il suo rapporto di amore e odio, è considerato l'americano in Israele, perché è l'uomo che parla il grande inglese, che è più a suo agio con gli Stati Uniti, dove però ha avuto anche sempre un rapporto difficile con le varie amministrazioni, da ultimo anche l'amministrazione Biden, ci sono dei grossi problemi, ma è anche il primo ministro che più persino di Winston Churchill è stato invitato a parlare al congresso degli Stati Uniti, quindi c'è sempre avuto questo grande rapporto. La terza parola che mi viene in mente è Iran, perché Netanyahu, che è diventato primo ministro addirittura nel 97, è l'uomo che ha promesso che l'Iran non avrebbe mai sviluppato la bomba atomica. E' la sua grande ossessione, la sua grande missione di una vita politica, di difesa del suo paese, perché sa benissimo che l'Iran di Ayatollah con l'arma nucleare sarebbe, per usare un'espressione di André Glucksmann, compianto filosofo francese, l'unione di Hiroshima e di Auschwitz, della potenza nucleare di Hiroshima e del progetto di sterminio di Auschwitz. L'ultima, quarta parola, è una parola che viene dall'Yiddish, che è chutzpah, che è una parola che significa in ebraico sfacciataggine, insolenza, ed è una parola che definisce molto il carattere di Netanyahu, cioè l'idea è sostanzialmente che Israele, nato per volontà e per un voto delle Nazioni Unite, esisterà ed esiste a dispetto dell'opinione pubblica internazionale. E questa insolenza definisce un po' anche l'agire politico di questo primo ministro così divisivo e contestato. E arriva fino a una intervista che ha dato qualche settimana fa alla rivista Time Magazine, in cui ha detto sostanzialmente, ed è sostanzialmente a mio avviso l'espressione che definisce di più questo personaggio, preferisco avere una cattiva stampa che un buon funerale. Questa è, secondo me, la frase che definisce di più la storia del primo ministro israeliano. Grazie. Dov'è il mio personaggio? Eccolo. Allora, io volevo iniziare questo micro TED come farebbe Saverio Raimondo, e quindi lo farò in piedi. La prima notizia su Xi Jinping, il presidente della Repubblica Popolare Cinese, è che ha la stessa identica età di Antonio Tajani, che significa molto, soprattutto per un leader cinese, perché comunque è considerato un leader quasi giovane, tant'è che nella sua carriera ha avuto diversi problemi per affermarsi come leader. Tutto ha cambiato, però, tra il 2011 e il 2012. La prima parola, il primo aggettivo che descrive Xi Jinping è epurato, perché in realtà lui nasce come un apurato dal partito comunista cinese. Il padre era stato, durante la rivoluzione culturale, era stato epurato dal partito e lui aveva subito l'epurazione del padre, quindi non riusciva a entrare nel partito come funzionario. Poi improvvisamente tutto cambia quando decide di essere lui l'epuratore e quindi scala la leadership del partito, soprattutto locale, ovviamente distinguendosi nelle epurazioni. Questo gli ha dato e gli ha conferito una certa, diciamo così, era considerato un personaggio molto potente. Nel 2012, quando alla fine scala tutte le fasi che nel partito comunista cinese portano poi alla leadership, i giornali internazionali si chiedevano chi fosse quest'uomo. Infatti il secondo aggettivo è misterioso, perché Xi Jinping, scusate, il secondo aggettivo è misterioso, perché di Xi Jinping in realtà, a parte questo fattore epurazione, sappiamo pochissimo, sappiamo chi è la moglie, una donna stupenda che faceva la cantante, sappiamo che ha una figlia che ha studiato in America, ma non abbiamo nessuna altra notizia sua, privata, che tipo sia di Putin, per esempio. E qui passiamo al terzo aggettivo che lo contraddistingue, l'alleato Xi Jinping può essere definito anche da suoi amici. Quanti amici c'ha e chi sono i suoi amici? Uno dei suoi migliori amici è proprio Vladimir Putin. Però come mai? Di Putin sappiamo tutto, abbiamo studiato tutto e di Xi Jinping non sappiamo niente. Perché il mistero è parte integrante della grandezza della Repubblica Popolare Cinese di oggi, quello che è diventato dal 2012 a oggi. L'ultimo aggettivo che descrive Xi Jinping è lucido, lucidità. È esattamente la direzione che ha portato Xi Jinping a riuscire a ottenere il terzo mandato, che sarebbe un unicum nella storia della Repubblica Popolare Cinese dal 49 a oggi, eppure nessuno riesce a penetrare questo mistero che c'è a Pechino proprio perché la lucidità di Xi Jinping ha permesso di creare una coltre impenetrabile. Questo è fondamentale da capire, soprattutto nelle relazioni con la Repubblica Popolare Cinese. Appunto stamattina abbiamo parlato, abbiamo conversato con Tajani anche di questo. La verità è che fare diplomazia e dialogare con la Cina di Xi Jinping è sempre più difficile. E è sempre più difficile anche raccontarla per noi giornalisti perché non ci sono notizie, perché non c'è trasparenza. E tutto quello che ha fatto Xi Jinping dal 2012 a oggi, cioè da leader della Repubblica Popolare Cinese, è stato proprio questo. Chiudere tutto e aspettare. il tempo è uno dei fattori fondamentali della leadership cinese, aspettare il momento in cui finalmente potrà sfidare legittimamente, nella loro, nella logica cinese, l'ordine globale. Grazie. Buongiorno. Io vi racconterò Ali Khamenei, un pezzo della sua vita e della sua leadership, il leader supremo della Repubblica Islamica dell'Iran che in questo momento attende la risposta israeliana per il lancio di missili, 200 missili balistici, quasi 200 missili balistici contro Israele la settimana scorsa. E il primo aggettivo che ho scelto per lui è bugiardo, ma bugiardo con questa accezione. Un famoso, famosissimo scrittore iraniano che si chiama Humad Majd che vive a New York da moltissimi anni, che ha scritto il più bel libro ironico, forse anche l'unico, di solito sugli Ayatollah si scrivono dei saggi noiosi, ma l'unico libro e un bellissimo libro ironico sugli Ayatollah ha detto, scrive in questo libro questa cosa. Se c'è qualcosa che i presidenti americani, Richard Nixon, Bill Clinton, ma anche cita il presidente del consiglio che allora era il presidente del consiglio italiano Silvio Berlusconi, invidiano agli sciiti è che il capo di stato del più grande paese sciita che è l'Iran, cioè oggi e ormai da molti anni Ali Khamenei, è l'unico leader mondiale ad avere formalmente riconosciuto il diritto di mentire. E, diciamo, lo usa parecchio Khamenei, questa regola deriva da la storia del popolo persiano, del popolo sciita che per tantissimi secoli, decenni si è dovuta nascondere, era legale mentire sulla propria fede perché c'erano le persecuzioni della maggioranza del mondo islamico che è sunnita nei confronti degli sciiti e allora innalzano l'ambiguità a un valore. Khamenei qui non si vede la sua mano sinistra ma non ha la mano destra dagli anni da decenni ha una mano finta attaccata al polso perché cosa succede nel 79 quando c'è la rivoluzione islamica che in realtà non è una rivoluzione islamica sarà poi accherata dagli islamisti ma nel 79 contro lo Shah le piazze sono piene di studenti di nazionalisti di comunisti di decine e guardate le foto di allora di decine di migliaia di donne iraniane senza il velo la rivoluzione riesce lo Shah scappa ma poi il clero che è molto meglio organizzato dai partiti politici anche in mezzo al deserto c'è una moschea anche in cima a una montagna c'è una moschea non c'è una sede di partito in mezzo al deserto o in cima alle montagne ruba la rivoluzione e si impone come unico potere legittimo con la forza e con la violenza questo succede nel 79 poi negli anni 80 e infatti il terzo aggettivo dopo rivoluzionario è insanguinato comincia una campagna mostruosa per uccidere non i dissidenti nel senso i monarchici quelli che volevano il vecchio regime prima della rivoluzione ma per uccidere gli alleati di quella rivoluzione i nazionalisti i comunisti le donne i loro mariti o le loro mogli e con quella scatola vuota che era quell'involucro vuoto che era l'ex presidente Ebrahim Raisi un uomo senza carattere che ha dedicato la vita a eseguire gli ordini di Kamenei ad essere molto obbediente spelando di poter scalare così il potere e ci è riuscito è diventato presidente poi vi ricorderete che a maggio è morto in un incidente di elicottero insieme al ministro degli esteri Kamenei e Raisi mandano a morte per impiccagione circa 4.000 ex alleati della rivoluzione nazionalisti marxisti tutti tutti gli ex alleati politici della rivoluzione la pratica degli impiccagioni continuerà fino ai dissidenti di oggi fino ai manifestanti della protesta Jin Jin Yan Asadi che comincia nel settembre del 2022 dopo la morte di Massa Jin Amini di una ragazza kurda di 22 anni fermata dalla polizia morale per il suo velo messo male e riconsegnata a cadavere pochi giorni dopo alla famiglia Kamenei è anche l'uomo di una strategia che per 45 anni compresi i suoi decenni al potere è stata molto chiara quella della pazienza strategica cioè Israele il grande nemico che loro non chiamano così chiamano entità sionista va distrutto ma non ci possiamo permettere e non se la possono permettere una guerra con Israele con il suo alleato gli Stati Uniti e quindi non lo attaccheremo mai direttamente per 45 anni non attaccano mai direttamente Israele lo attaccano con gli attentati con le milizie per la prima volta ad aprile con l'operazione vera promessa numero uno partono i missili iraniani contro Israele per la seconda volta con un attacco molto più duro con quasi 200 missili balistici accade lo stesso la settimana scorsa e quindi questa probabilmente è la decisione quella che ha appena preso di attaccare direttamente Israele più rilevante della storia al potere e quella per cui sarà ricardato Ali Khamenei quello che succederà a lui e alla sua Repubblica Islamica dopo questo cambio di strategia che nessun analista dell'Iran si aspettava lo scopriremo ovviamente nelle prossime settimane grazie buongiorno sono Marco Gardazzi Kamala Harris quattro aggettivi il primo è incompleta non doveva essere il suo anno nessuno si aspettava neppure lei che fosse l'anno in cui avrebbe fatto questa corsa per la Casa Bianca forse doveva essere il 2028 sicuramente non il 2024 ma i vice presidenti sono sempre incompleti fanno uno dei lavori più inutili che esiste negli Stati Uniti fino a quando in un minuto diventano la persona più importante perché magari succede qualcosa al presidente come è successo quest'anno come era successo in tempi recenti a Gerald Ford con Nixon a Lyndon Johnson con Kennedy forse il vice presidente più incompleto inatteso che possiamo paragonare a Kamala Harris nella storia quantomeno del secolo scorso però è R. Truman che si trovò improvvisamente presidente negli Stati Uniti dopo Roosevelt quando nessuno se lo aspettava e fu un presidente sorprendente e sarà interessante vedere nel caso Kamala Harris divenga presidente se sarà altrettanto sorprendente è un po' presto per paragonarla a Truman però il secondo aggettivo è proprio sorprendente perché fino ad ora lo è stata è stata sorprendente nel modo con cui ha gestito la campagna che ha ereditato da Joe Biden è stata sorprendente nel recuperare il distacco da Donald Trump nel superarlo nel rimettere in gioco i democratici nel riaprire una campagna elettorale che francamente a luglio sembrava praticamente conclusa ed è stata particolarmente brava in un momento particolare della campagna che è stato il dibattito con Donald Trump lì ha veramente sorpreso perché ha controllato bene la serata ha disposto una serie di trappole in cui Trump è caduto ripetutamente e ha dimostrato una grande capacità quindi incompleta non ancora pronta forse ma già sorprendente e allora ci si aspetterebbe che ci raccontasse molto di più di quello che vorrà fare se sarà presidente e invece il terzo aggettivo che ho scelto è elusiva perché finora di Kamala Harris presidente non sappiamo moltissimo non sappiamo che idea ha di America non sappiamo quale può essere la sua vera politica estera è impensabile pensare per ora una dottrina Harris paragonabile alla dottrina Truman non sappiamo come se la caverà con i personaggi che avete visto prima con Putin ma anche con Netanyahu con Khamenei con Xi Jinping non sappiamo bene quale sarà la sua capacità di vestire quel ruolo se sarà presidente che è un ruolo che cambia tantissimo le persone non sappiamo dove vuole portare l'America non ce lo sta raccontando tantissimo quanto meno nelle interviste perché ne fa poche ed è abbastanza appunto elusiva però c'è un aggettivo finale che credo sia importante tenere presente per Kamala Harris e che veramente la descrive e descrive questa campagna ed è l'aggettivo innovativa la foto più bella secondo me che racconta questa campagna elettorale fino ad oggi è una foto che ha fatto Todd Eisler del New York Times alla convention di Chicago sotto il palco con Kamala Harris che parla e sotto la sua nipotina Amara con le trecce che la guarda e se andate su Google e mettete Amara Kamala Harris la trovate subito quella foto ci racconta l'innovazione che sta portando la campagna di Kamala Harris che da tanti punti di vista è molto bamiana ma è anche qualcosa di più quella bambina guarda la zia dicendo ma allora pure io potrei diventare presidente un giorno e se Kamala Harris sarà la prima donna la prima nera la prima asiatica alla Casa Bianca sarà una grande innovazione dopo 45 uomini di cui 43 bianchi uno nero e uno arancione che è il suo avversario e sarebbe la prima ad arrivare lì e a incarnare pienamente quella che forse è la parola più americana che ci sia che è appunto innovazione quindi vediamo se Kamala Harris poi ci sorprenderà con questa grande innovazione che porta scritta nella sua stessa storia personale grazie 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 grazie